E' finito tutto. Quindi mi stai dicendo che devo andare. Vuoi continuare così? Bene. E prendine un pezzo intero. Controlla che sia quello vero, eh? Quando si parla di parmigiano reggiano, si parla d'amore. Per gli stessi ingredienti da mille anni. Per un formaggio senza lattosio e senza conservanti. Da sempre. Parmigiano reggiano. Quello vero è uno solo.